Mr. Poghesci, allora, ha iniziato il ritiro, si è iniziato a lavorare, come ha trovato i ragazzi? Bene, molto disponibili, vogliosi, come il primo giorno di scuola, tutti curiosi, curioso lo staff, curiosi i ragazzi, nuovi metodi, come il primo giorno di scuola, c'è molta attesa, però ho visto uno spirito giusto. Strutture e magari anche la struttura alberghiera soddisfano quelle che sono le sue esigenze? Siamo orgogliosi di essere stati accolti veramente come non mai, io ho girato molti ritiri e l'accoglienza che abbiamo avuto a Norcia mi fa veramente rimanere a bocca aperta, perché è gente cordiale, gente che ha veramente bisogno della presenza e quindi condivido ancora di più il fatto che la nostra società e il nostro patron abbia voluto a tutti i costi venire qui a Norcia, perché è un grande segnale vedere queste persone che dagli occhi hanno veramente bisogno di persone che gli stanno vicino. Parliamo della struttura dove andrete a lavorare, il latino di gioco, guardando un po' dall'esterno mi sembra ben curato, ben tenuto. No, no, siamo stati veramente, guarda, sono rimasto senza parole, un'organizzazione anche nella struttura alberghiera, devo fare i complimenti a tutto lo staff, ci trattano veramente come non mai, tante volte magari si va a cercare il prestigio in tanti posti e noi abbiamo questa cittadina così vicina a Terni, molto, veramente complimenti a tutta l'organizzazione, soprattutto anche ai giardinieri, ai magazzinieri che ci hanno messo a disposizione un campo e un manto verboso veramente all'avanguardia. Senta, parliamo ai ragazzi, solitamente fa parte della storia, ora non più, i giocatori si presentano sempre preparati, pronti per sostenere quelle che sono le fatiche, anche nel caso di questa ternana. Sì, ho visto già che sono, oggi ho subito la palla, subito la partitina, subito molto pallone rispetto magari a tante altre abitudini di altri allenatori che magari cominciano a fare testa, cominciano a fare fondo, invece a me piace subito partire subito con l'attrezzo che fa parte di questo nostro mondo, cioè la palla, quindi li ho visti bene anche nel finale, di solito quando la partita va un po' scemando, e invece questi ragazzi non volevano che finisse mai la partitina, quindi è un volo interiore, poi abbiamo un gruppo molto giovane, quindi si vogliono tutti mettere in mostra e questo è quello che io desidero. Infatti dicevo, facevo una considerazione, 10 over, 10 under e un paio di bandiere, i giovani che possono apprendere non solo dal punto di vista di quelle che sono le lezioni che impartirà il proprio tecnico, ma anche si possono avvalere dell'esperienza dei 10 over. Il giovane oggi è una spugna, deve incamerare tutti i messaggi giusti che danno i più esperti, che danno lo staff, devono apprendere. Il giovane che mi dimostra che in questi 30 giorni sta vicino alla mia idea di gioco potrà far parte di questa ternana e non mandarlo a giocare magari a farsi le osse in una categoria inferiore, quindi sono aperto a tutti i discorsi. È normale che oggi la società sa benissimo che mancano quei 4-5 giocatori fondamentali per fare quello che il padrone ci ha chiesto, perché la buona volontà, l'entusiasmo, la voglia, la determinazione, però dobbiamo avere anche dei giocatori che siano di questa categoria e che abbiano soprattutto lo spirito battagliero per andare a conquistare qualcosa di importante. Notizia confortante, abbiamo visto che ha parlato a lungo dopo l'allenamento con il LDS, Evangelisti? Sì, ho avuto un summit in giornata con Bandecchi e con Ranucci, si sono riuniti e stanno lavorando su quelle pedine che adesso devono essere veramente i particolari che devono fare la differenza, perché questo è un ottimo gruppo. Io già ho visto dal primo allenamento che c'è molta qualità e c'è molta quantità. Adesso mancano quei giocatori che ti fanno poi la differenza nel dettaglio e sono quei giocatori che abbiamo già messo nel mirino e che la società c'è un po' più di pazienza perché la concorrenza è ardua e tutti quanti vogliono vedere che squadra fa questa ternana. Possiamo chiedere qual è il programma di lavoro di questa prima settimana? Sì, il lavoro di questa settimana, già avete visto oggi, è tutto basato molto sulla tecnica individuale, sull'impostazione, soprattutto sulla recezione, smarcamento della palla. Voglio molto che i ragazzi cominciano a capire che quando uno ha la palla tre si devono muovere. Voglio sempre un quadrato, abbiamo lavorato molto sui quadrati. È un'esercitazione che fa un attimo capire quando prendo la palla chi la devo dare. E se io non ho i quattro lati occupati nel mezzo al campo, un appoggio in avanti, due laterali e uno dietro, io difficilmente posso fare e posso esprimere quella qualità che ho nelle mie giocate. Sentivamo, a parte che abbiamo visto, mentre i suoi collaboratori lavoravano con i ragazzi, lei osservava attentamente, e poi durante la partitella a campo ridotto abbiamo sentito sempre chiedere intensità, intensità, intensità e attaccare, attaccare. Loro devono imparare questo e devono imparare che dobbiamo correre in avanti. Quindi quando loro capiranno questo, loro non si devono preoccupare dietro. Dietro abbiamo un portiere e abbiamo tre guardiani. Sono loro che sono predisposti. Gli altri sette devono essere bravissimi ad aggredire avanti e non dare rispiro agli avversari, togliere gli appoggi subito, con cattiveria, con determinazione. Quando noi abbiamo la palla ci possiamo rilassare. Quando hanno gli avversari io sono frenetico, la dobbiamo andare subito alla riconquista. Poi possiamo avere anche un palleggio di due minuti, tre minuti. Ma se l'avversario ha la palla 30 secondi io impazzisco. Quindi loro devono avere questa cattiveria. Devono andare subito alla riconquista della palla. Un messaggio ai tifosi ternani che mi sembra siano bancaldi. Sono molto curiosi di questa ternana targata Sandro Pokesci. Guarda, io ai tifosi devo chiedere un po' di pazienza. Un po' di pazienza, ma loro devono sapere una cosa. Io sono come loro. Sono una persona che dentro ha sofferto molto e vuole arrivare. Dove in un'altra città, in nessun altro posto mi avrebbero dato questa possibilità. Quindi ogni mia sconfitta per loro deve durare un secondo. Per me una sconfitta dura sei giorni. Io questo già lo dico e lo ripeto. La mia vittoria dura un'ora. La mia vittoria per i tifosi deve durare sette giorni. Ecco, la differenza è questa. Lasciassero a me le cose brutte e loro devono godere le cose belle. Le vittorie le devono godere per sette giorni. Ecco, se io riesco a trasformare questa mia idea ai miei nuovi tifosi sarei felicissimo perché le sofferenze le devono avere chi è abituato. Io sono abituato a soffrire. Bocca a loro, ministro. Grazie a voi. Grazie a voi.